Alleluia, quanti sono pronti? Primo Timoteo capitolo 4 dal versetto 11 al versetto 16 Ordina queste cose e insegnale 12 Nessuno disprezzi la tua giovane età Ma si di esempio ai credenti Nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza 13 Applicati finché io venga Alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento 14 Non trascurare il dono che hai in te E che ti fu dato mediante la parola profetica Insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani 15 Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse Perché il tuo progresso sia manifesto a tutti 16 Bada a te stesso e all'insegnamento Persevera in queste cose perché Facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano Amin Amin Non trascurare il dono che Non trascurare il dono che ti E che ti Paglia ro C'è un gioco E'e carca Nalè appne 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 Nalè Appne sun valiano Bacchamega Ameen Angi car caro Aaj majinna vachan suna E vachan Mere zunnegi davec Saugna fal le ake aave Aore fal Eshude naam davec Baniran Eshude Samrthi samrthi Naam davec Ameen Hallelujah Alleluia 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 Darif kardu e kwarifirto prabudi Zordar zorda E vachan Questa parola di Dio Sant Paulus San Paolo Apre atmik bete spiritual san Timothi Nulikdaia Patrida dvara Queste parole sono state scritte Per mezzo di una lettere Da San Paolo Al suo figlio spirituale Timoteo E nella Biblia c'è scritto Che nessuno desprezzi La tua giovenetà Ma si di esempio Ai fedeli nel pariare Nel comportamento Nel carità Nella fede Nella purezza Si di esempio Hallelujah Paulus e word Apre spiritual san Nuh kare Kionki Timothi Prabhu da karm karen De lei Taiyara Apre apno kare San Paolo Aveva detto queste parole Per mezzo di una lettera Al suo figlio spirituale Che era Timoteo Perché il Signore Stava preparando Timoteo Per utilizzarlo E poi nel versetto successivo C'è scritto In attesa del mio arrivo Dedicati alla lettura All'esortazione E all'insegnamento Di dedicarsi a questo Di dedicarsi a questo Di dedicarsi a questo Ma che cosa succede A giorni di oggi A giorni di oggi Un credente Anche un servo Non trova più il tempo Per queste cose Alla lettura All'esortazione E all'insegnamento E andare a fare evangelismo Alleluia 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 Dovresti dedicarti Alla lettura All'esortazione All'insegnamento Dell'evangelismo Alleluia 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 Non c'è tempo per visitare Ciascuna persona qua presente nella chiesa Sta dicendo la realtà E lui crede ed è felice Che tutte le persone capiscono Quello che lui sta dicendo Per Brother Johnson è difficile andare a visitare Due, quattro, ben cinque famiglie Ma ci sono delle persone che scompaiono dalla chiesa Da due, quattro mesi Com'è possibile? Di dedicarsi alla lettura, all'exertazione e all'insegnamento E si di esempio Alleluia Alleluia Avrebbe avuto perdite Non avrebbe avuto la cure Nella Bibbia C'è scritto Sì di esempio Sì di esempio Ai fedeli Ai fedeli Ai fedeli E nella tua fede Quando noi diciamo e dichiariamo Che il Signore può liberarci dalla morte Quando noi leggiamo e ascoltiamo Noi crediamo Noi crediamo Ma quando ci troviamo in mezzo a queste vie Purtroppo le cose che noi abbiamo capito Le cose che noi diciamo Purtroppo quelle cose lì cambiano Alleluia Alleluia E di fatto Prede johnson Continua a dire Che la chiesa Non è un edificio La chiesa Siete voi Siete le persone qui presenti E le parole che dice 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 Non sono soltanto delle parole Ma è la sua fede Ed è così Amen Amen Prema deve non andare a stare Povettrata deve non andare a stare Sì di esempio Ai fedeli Nel comportamento Nel carità Nell'amore Nel purezza Non dovete essere buoni Pino a quando Non avete occasione Di diventare persone cattive Non dovete essere onesti Finché non avete avuto Il momento Per diventare una persona ladra Non dovete essere puri Finché non avete il momento Per commettere adulterio Alleluia Alleluia Dovete essere come Giuseppe Che ha avuto occasione Di fare adulterio Ha preso l'adulterio Lo ha cacciato via Alleluia Voi dovete essere onesti Voi dovete essere un esempio 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 Diceva sempre una cosa Se non avete un buon carattere L'unzione da Dio Per voi diventa pericoloso Samson Samson aveva un esempio E non aveva purtroppo un buon carattere Non aveva purtroppo un carattere Che potesse ascoltare la voce di Dio E seguire Dio Onipotente Per questo ha riscontrato perdita Rai Davide Nonostante aveva commesso adulterio Ma lui aveva un buon carattere Per questo lui si è innalzato E se anche Paolo Stimoteo C'è il carattere C'è il carattere Di un esempio Per questo San Paolo Dice a San Timoteo Di essere di un buon esempio Alle persone Nella purezza Per avere successo Nella vita E nella vita spirituale In ogni cosa Noi dobbiamo seguire Esattamente ciò Che c'è scritto nella Bibbia Se la vostra vita Sta andando avanti Normalmente Stiamo ringraziando Dio Scantiamo lini per Lui Ma dobbiamo essere pronti Come Giobbe Che quando riceveva Delle notizie Che non erano buone Continuava a ringraziare Dio Hallelujah Exemple 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 Ma in ogni life Dice che non erano Dice example Dice Prato Johnson Nella sua vita Ha visto un esempio Vibente Ha visto persone Che stavano nel momento Al tempo di morire Che rete Smail Or Haht Eta Che Ho Ne Chabana Leni Vishwaas Dice Exemple Le persone Che stavano per morire Davanti alla morte Stavano sorridendo Avevano alzato le mani Verso Dio Nipote E hanno Sono diventati D'esempio Eta Vishwaas Dice Non dovete essere Purtroppo Quei fedeli Che dicono Se la mia testa Continua A farmi Continua A farmi Ma Che il senso Ha Che io Presenti Davanti a Dio Iadra Koi Pai Pagli Chia Eshu De Kode Khande Nato Si Chenghe Tussi Noro Kite Gai Sampi Molto Pian Che nella Bibbia C'ha Scritto Che per Tramit Dio Noi Siamo Guariti Pirmari Tati Dio Siamo Guariti Per 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 Malattia Non Vi Può Comandarla Malattia Non Può Venire Su Di Voi Ma Quale Che Fred Johnson Oggi Vi Sta Trasmettendo Voi Dovete Essere Di Esempio In Ogni Cosa Nel Lavoro Dovete Che Cristiani Sono Queste Le Persone Se Venite Qui Dovete Essere D'esempio Alleluia Alleluia Sappiate Molto Bene Che Voi Sente La Luce Su Questa Terra Voi Dovete Mostrare La Via Alle Persone Oggi Dio Vuole Siete D'esempio Alle Altre Persone Siete D'esempio Alle Altre Persone Alleluia 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 Che Ti è Ti è Stato Conferito Mediante Una Parola Profetica Con L'impodizione Delle Mani Da Parte De Anziani Non Precuparti Non Trascurare Questo Significa Che Senti Modello Poteva Dire Che Io Servo Dio Dio Che Lui Ha Fede Per Questo Lui Uno Una Persona Fedele Alleluia Alleluia ma non trascurare cosa significa se voi state servendo nella casa del Signore e non lo state facendo nel modo giusto questo significa che voi state trascurando il dono che è stato dato a voi questo vuol dire che vi è del poco peccato vuol dire che vi è mancanza della parola del Signore e questo è una trascurezza e San Paolo dice a San Timoteo di non trascurare ma non trascurare ma non trascurare e San Paolo dice a San Timoteo di non trascurare tu combatta la buona battaglia i doni che ti sono stati dati e i regali che ti sono stati concessi quelli spirituali la servitù che tu dovresti dare dovresti combattere una buona battaglia San Paolo sa molto bene che questa è una battaglia e non soltanto una battaglia è una battaglia spirituale che cominciano adattarci dai pensieri e dalla mente nella vita di una persona fedele perché le persone spesso cominciano a pensare nella mente perché questa persona mi ha detto così perché questa persona si è rivolta in questo modo li farò vedere questo li farò vedere questo questa battaglia cominciano qui dalla mente e dai pensieri le profeczie fatte su di te per questo devi combattere delle buone battaglie devi combattere delle buone battaglie per conservare queste profezie fatte su di te oh te oh fauci dai ki fai da che da giung de mechi hallelujah le persone dicono che noi siamo delle persone combattenti nella preghiera ma che cosa servono le persone che sono combattenti nella preghiera quando davanti alla battaglia non partecipano hallelujah oh che negano vachan 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 la parola di oggi in quante persone sta entrando in quante persone sta cambiando e ricordatevi ricordatevi quando Dio vi dà la parola non è per condannare ma è per salvare voi poi le persone poi le persone oh a che cosa serve un fucile che quando nel momento del bisogno non spari oh a che cosa serve una canna che quando nel momento del bisogno non spari che non partecipano non partecipano non partecipano che non partecipano che nel momento della battaglia non partecipano hallelujah battaglia spirituale ovviamente voi dovete essere quelle armi che Dio possa utilizzare voi dovete essere quei recipienti che Gesù Cristo possa utilizzare sappiate molto bene il recipiente che viene costruito con la ceramica quando togliamo la ceramica viene creato un recipiente alcuni vengono utilizzati per preparare delle pietanze altri vengono utilizzati per bere o mangiare e sappiate molto bene la ceramica viene utilizzata per costruire questi recipienti viene dalla terra se la terra dovesse rifiutare di diventare la ceramica come possa essere utilizzata come possa essere utilizzata come possa essere utilizzata se voglete essere utilizzata allora come Dio vi possa dare onore come Dio vi possa utilizzare hallelujah 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 church Running life І non stup stole ning San Paolo ha detto di dare l'insegnamento nel parlare, nel comportamento, nell'amore di carità, nella fede e nella purezza. Non bisogna essere di esempio soltanto nel cantare o nel suonare l'istrumento musicale, ma bisogna essere di esempio in ogni cosa, in tutto. Non dovete essere soltanto di esempio nel ricevere la conoscenza della vita. Dovete anche metterlo in pratica. Alleluia! Alleluia! E come ci sono i metà? Al giorno del matrimonio di prete Johnson viedono 5 o 6 preti. Molti di più, ma la maggior parte erano anche venuti da tutta l'Europa. avevano deciso che volevano imporre le mani su di lui per dare l'unzione così che lui possa diventare prete e questo volevano fare a lui e prete Johnson aveva rispettato perché le persone hanno fretta di prendere un titolo e quelle persone, quei preti che volevano dare l'unzione a Fred Johnson sono preti che sono conosciuti in tutto il mondo Fred Johnson ha detto lui sta servendo Dio Onipotente e non ha bisogno di avere un titolo perché io avevo le vifze non avevo le vifze mi rimangato perché io avevo preparato che il titolo non sapevo il titolo non sapevo perché il titolo non era ancora sposato quindi vi era ancora in fidanzamento con l'ufficiale quando gli era stato riferito questo ma prete Johnson sappiamo molto bene che se non vi è in voi un buon carattere l'unzione è pericoloso perché le persone vogliono essere riconosciute quando le persone che ti riconosceranno saranno le persone a darvi il titolo se voi cominciate a cantare lini a Dio le persone vi chiameranno per le persone che cantano per Dio se trasportate latte la gente ti dice l'attacco esatto alleluia se vuoi stare trasportando del latte se vuoi stare trasportando del latte è normale se una persona sta trasportando il latte le persone vi dicono quella persona è un attacco nel senso che porta del latte quindi sono le persone che vi danno questi titoli per esempio dovete essere di esempio dovete essere di esempio in ogni cosa se voi siete dei guerrieri spirituali tu sei pastor e se voi siete dei guerrieri spirituali se voi siete dei guerrieri spirituali hallelujah e in questo troverete la grazia e la felicità prete johnson vi sta dicendo la praticazione di oggi non era stata organizzata oppure pianificata ricordatevi quando uscite da qua dovete capire che voi dovete essere dei esempi ai fedeli ritraziate Dio i potenti ringraziate Dio i potenti prete johnson stava suonando da quel momento era stato riconosciuto come la persona che canta par Dio i potenti date ogni cosa che voi avete a Dio i potenti hallelujah oggi è un giorno bene e mi credo che in questo giorno e in questo giorno in questo giorno e in questo giorno che vorrei fare un esempio prete johnson 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 Se riscontrate delle lacune nelle vostre vite, non preoccupatevi, perché il Signore vi possa dare la felicità così come può dare la tristezza, ma ringraziate il Signore Dio Onipotente. Padre spirituale di Preto Johnson dice sempre questo, rendi bene oppure non rendi bene, ma tu sarai sempre mio Dio Onipotente. Non ci dicevo, ma quando lui aveva già cominciato questo Ministro, aveva detto questo, che Dio Onipotente gli dia la felicità, gli dia la trizzezza, gli dia la vita, gli dia la morte, gli dia la morte. lui canterà e ringraziereà sempre darà l'onore a Dio Anipotente per 4 giorni ho avuto ho avuto l'esporto ho avuto l'esporto ho avuto l'esporto oh agar barcattene valla ta non mi ha te barcatta per pizze reheni gai agar barcattene non mi ha mangata barcattene valla non mi ha mangata aveva cominciato raje dhe khajane non mi ha mangata raje non mi ha mangata raje non mi ha mangata e benedizioni vi vengono dietro per questo voi dovete cercare con lui che dà la benedizioni chi sono quei sono il tesoro e chi sono quei sono il re lasciate perdere il tesoro prendete il re anche se prenderete il re prenderete anche il tesoro alleluia alleluia